E anche Fieric con la maglia del Napoli Fieric è stato... si è oscurato, si è eclissato Sì, è tipo quelli che faranno l'intervista l'hier Appropriamento culturale questo, eh Ma chi c'è di Napoli? Solamente Rossella è in questa squadra Sì Volevo caricare i miei teammates Grazie Era molto importante farlo Allora vi chiedo, qual è il vostro più forte good point? L'amicizia Sì, penso l'amicizia Sembra un meme, ma in realtà sì Così Sì, noi oggettivamente almeno, cioè, ci siamo sempre divertiti Da qua, c'è anche quando abbiamo preso un sacco di cazzo Durante le screen, ma tantissimo tipo Ci siamo sempre divertiti Angela, eric, criticato con Chris Eldia Io? Ma ti sto confondendo No, no, no No, no No, no Senti, faccio Senti, devo fare una critica politica E solamente con chi è forte come te Oppure Se lì, solo perché ti stavo sul cazzo Non perché sono scarsi Questo non li puoi criticare Se fanno schifo Perché fanno schifo Cioè, hai capito quello che intendo No È come dire un vecchio che è vecchio Dì, sì Mi ricorda, mi ricorda l'anno scorso quando Deidara, se quando Deidara spammava la maestria Era un bullo pezzo di merda Quando faceva Vincenzo era un chad Esatto Perché Deidara è forte E io facevo la maestria con uno più forte Chi? Uno con 400 LP in più di me Chi? Tu Ah, vaffanculo Vi voglio chiedere Lanciate un messaggio alla scuola di Fazzone Un attacco, un insulto, una predica Un complimento, un augurio Vi auguro di essere amici quasi quanto noi Io ci auguro che i piatti siano già tutti lavati E le lavatrici già tutte svuotate Quello che dice lui Lui, lui Quello Vi vedete tutte le parole del capitano napoletano Di Fieric Sì, si aggiungerebbe anche Forza Napoli Generale, scusami il capitano sono ancora io Sì, mi sono convinto Scusami Ho dato tutte le responsabilità Perché sai i pezzi grossi fanno Esatto Giusto I piatti li ho già lavati oggi Mi fai vedere gli occhi, Fieric Solo con gli occhi Non so perché l'ho convinto sarebbero stati piccolissimi Ecco, non vanno bene No, vanno benissimo Io sono sempre così, non ti preoccupare Le luci non aiutano, ma sono sempre così E ragazzi e ragazze Grazie mille Buon divertimento A più tardi e buon game Dai Grazie, grazie a tutti Ciao Forza Napoli Forza Napoli Questo game raga Possiamo lasciare Seraphine da sola bot A wave clearare E Q può romare Quindi Q mi raccomando Dai buone informazioni su quando puoi romare Fieric Top Anche se Olaf sembra spaventoso In realtà il 2v2 in early lo vinciamo Li cacchiamo in testa Sì, sì, sì Va bene, Exos TP va benissimo Ho sbagliato, raga, scusate Vabbè, il TP già ci voleva L'ex host è una cosa È una risorsa No, scusate, scusate, scusate Scusate Eh, va benissimo Va benissimo Si può rifare? Non so Io non lo farei Non diamo il tempo di ripensare Non si fa Ho sbagliato, raga, cazzo Scusate Non ti preoccupare Sara, va benissimo l'ex host Se ti arriva Udira adesso Addosso glielo tiri in testa Esatto Non su Olaf E però è la flash Eh, gioca più safe, allora Tanto verrai lasciata da sola sotto torre Il flash è inutile Ok, l'ex host va bene Ok Sì Tanto il flash da Udira Non la puoi flashare Quindi tu dovrai stare sotto torre E farmare Q, rom me No problem Ehm Un attimo solo Che mi devo giustare Qua Ok Davvero Sara Non ti preoccupare Non è male Cioè, ovvio Il flash andava bene Però non è che hai preso Cazzo, ne so Ignite TP Ecco Cioè, tra tutte le summon Forse è la migliore Che potevi prendere sbagliando Parti solo con la leash di Sara Hai dimenticato le pozioni Ma tanto del TP Quindi non ti preoccupare Beh Ecco Respira Sara Respira Ora Giochiamo per la top side Quindi Tre campi Se loro trollano bot Q puoi comunque chiamare Fieric E vi fate una double kill in bot Ok? Quindi Fieric Uno, due, tre E vieni verso la top E vediamo Se poi i bot intano Dopo i wraiths Puoi andare là Io ti ho messo una ward difensiva Nel caso in cui ti invado a Udyr Io ho dimenticato Il trinket ross Ah, hanno swappato così Facciamo il giro lungo o no? Karma è punibile allo stesso modo ragazzi No, no, no Non fate il giro lungo ragazzi Sono Nanni e Vi ricordo l'altra persona Cazzo mi stanno Ok, sì Cringe Che lo è sto Jumpy Alien? God? Beh, è da Wild Drift Quindi non lo so Si vede Bella domanda questa Ok, sta giocando molto scared Questo è buono Ho delle rune che fanno petà contro Karma Dovrei prendere il cazzo Ma gioca troppo scared Quindi va bene Oddio, ma me gioca così Tu puoi camminare Eh, sta provando Ma mi lancia Ok, top ed evabile comunque Ma posso levarlo anche da solo credo Ok Non so se è scarso Sta sotto pressione Ma sta giocando malissimo Continua, continua E non ho più niente? Ok Buono Se vengo verso bot No No, l'abbiamo appena fatto Un trade Vai dive Vengo subito top Sì, sì, sì Straight up Straight up Già anche sappiamo qualcosa No Vogliamo stare un pochino più safe Potrebbe essere top Se non lo vedete rispettate Possiamo comunque derivarla Tanchi tu Fieric che io non ho il TP Cioè non ho il flash Vado Vai, vai Ok, jungle è spottato Ok Vieni più avanti Tanto fa Nice Ha flashato lui? Sì Ok Ottimo flash Sicuro al 90% Bravo Possiamo ridevarlo sto figlio di puttana? Eh, c'è il TP di karma Eh, ma non lo sta usando Ci mette un po', eh Oh, is in thing, is in thing Ok No, no, no Lascia sta, lascia sta Becco e tip Appena posto vado su Kasumi, eh Ok Sono un linguaggio scurile Perdonatemi ragazzi Non volevo Passa con questo linguaggio Se no, non mi ha fatto niente Mangax, poverino Ho dato la mamma che Non, no Vaccino a Mangax Ok Eh, non sto messo molto bene io mid Sono mid, sono mid Non c'è il Fier, però Punzecchiero Puoi dire attenzione che potrebbe essere Eh, push a questo che andiamo via Canyon back Vai, punzecchialo Vai Non c'è un Fier Non c'è un mana Va bene Pulisci la wave Pulisci la wave con Fieric E beccate Vai Il carretto però devi prendere Eh, me ne 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 Ecco, faccio il TP Io non lo uso No, no, il TP no Dal Dal 6 Olaf ti può tirare dritto proprio Va bene? Quindi Giocatala estremamente safe E chiama Fieric se ti serve Se non riesci a farmare Va bene? Sì Perché non puoi Ricordi, la ulti di Olaf Non puoi Cioè, se lui vai in ulti Non lo puoi spionare Non puoi tirare Posso venire top? Sì, 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 sì Non è il flash secondo Fieric Quindi potrebbe morire facile Vengo in più diretto, sai? Non sono l'ati back Vado Io la push o no? Non è wardato Non è wardato Qua non è wardato Faccio il giro largo Arrivo Ci siamo, Deido A me siete riuscite? Sì Oh, oh, ok Va bene Manca dove forse No, no, no Va bene, va bene Forse fanno il Drake, eh Lascialo stare Saramolo Lasciamolo Fieric puoi tornare top Ora lui tippa Ora lui tippa Possiamo riammazzarla O se non tippa Non lo so Ok Io però non ho ancora fatto il blue buff Anca Olaf Penso che stia scendendo verso il drago? Sto tipo non è forte, by the way Non consideratelo Tipo livello Kerenis È tipo gold Basso Quindi possiamo abusarlo un sacco Quando vedete che fa qualcosa Non dubitate Oddio Prendetela Non avvia ora la ward No, ok, non posso Drake preso Ok, sto su un totore, tanto Manca la bot, ragazzi Sarà il drago Sto andando bene, Sara Ah, la scherma mi raccomando Karma, karma top Ci sei? Eh, io sto ritornando botti Più al 6 sul cannon Più al 6 sul cannon Non ce l'ho ma dovrebbe essere morta Non so che stiamo uccidendo Ah, support mid Support mid Eh, scusate Eh, riesce a pushare questa? Ha ultato, lo sei ha ultato? Olaf No, mi sembra di no È diventato tutto rosso? Eh, pushiamo questa e poi beccare Perché Ok, va bene Tanto ne arrivano Eh, ho sentito una Allora ha ultato, ha ultato Possiamo levare top Q Se vieni Ah, sì, arriva Anche Fieric puoi farti quest in two top Se vuoi Forse è un po' too much Ma secondo me è fattibile Eh, aspetta Mi faccio vedere Che vado a fare i pappagalli qua Devo farmi red buff Ok, rimango qua Vieni dalla lane Q Vieni dalla lane Dalla lane Fieric puoi stare bot Sì, Fieric può coverare bot O anche gankare bot Se prende il 6 Lei muore Manca il support ragazzi Sì, sì, sì Malgax sarà a coverare top Ma non abbiamo paura qua Hai tu, Sara? Non fate proprio di tanto Sono gli in bot Puoi entrare, puoi entrare Puoi entrare Non ti vede, non ti vede Su questo minion Sul cannon Sul cannon Sul cannon Vado ulti, eh? Io Vado prima io A summoner Che tu sappia Eh, tutte, credo Ok, flash Niente, c'è anche Nautilus Vado 6 Ottimo Mi chiedo scusa Va bene, va bene Tu, a fuori di mettere alberelli Li manderei tutti a metà vita Quindi non è brutto Sto salendo verso top Eh, infatti Manca la bot Manca la bot Ha wordato qua Ok TP di karma Mi raccomando Rossè Super safe Non ti importa stare qua A farmare Tanto Fazze non si muove Lui di Busha rimane fermo Cioè non si sta muovendo Quindi Se stai sotto torre a farmare Non ci sta dando problemi Non è Non giocare per Erald adesso Sì, sì Un diretto offside Eh, poi guardate Prova da rimanendo Olaf Manca la bot Tutta quanta, eh? Allora Si muovono tutti per Erald Ok Possiamo contestarlo Possiamo contestarlo Io star bot Possiamo, sì Forse hanno un teamfight più forte Mi sforzo ne qua Non ce ne ho Non ce ne ho Aspetta, aspetta No Non ci si Aspettiamo Deido Vai via Out Out Sì Via da qui Allora Ross Non puoi far cercare così Cioè sappiamo che sono tutti lì Non puoi far cercare Capito? L'Era te lo lasciamo Sti cazzi L'Era te lo lasciamo Eh, vado a mid Difendo Sì Rossella Eh, Sara Sta andando molto bene Potta più farm di Miss Fortune È perfetto Attenta adesso A breve Sara Pusha con la wave E vattene Ok Cioè dai un'occhiata qua Oh Non ho l'ultimo Non ho l'ultimo No, no Arrivano subito Ok Puoi venire dalla lane Se vuoi Deviamo Se venite dalla lane La deviamo Cover all Erald Con Mokai Me ne vado Me ne vado Eh, arrivo in città Non ho il TP ragazzi No, torno back col TP Ok, non ha buon play La possiamo devare Feric Devi andare tu Olai fra qua Fra questo Vado Vai, vai, vai Ah, così Torno col TP o no? Eh, aspetta Ok Secondo me puoi Devo andare Me ne feric Sta salendo Sta salendo Olaf Devo seguire Ok Non pensavo che andavi Così, così, così Crazy, capito? Eh, sì Non so, potevamo andarci La shuttavamo, no? Eh, non avevo ancora le Non c'ho oggetti Ah, ok Cioè, te l'ho pingata Vedi, 8 secondi lì Cioè, ero tipo Ok, è pazzissimo Vabbè, sti cazzi Ci sta Limit testing Sì, sì Limit testing Come si mette il target Champions only Toggle Non ne ho idea Non so neanche cosa sia Purtroppo Vai giocare? Con l'altro bash Però sarà Hotkeys L'ho trovato L'ho trovato Cioè, move Eh, push pure Ok, sicuro Devo farmare un attimo Che è quello Due livelli sopra Oddio Buono Il drake lo prendiamo O lo lasciamo Eh, penso sia abbastanza grosso Però Lo lasciamo Io buscio top Dobbiamo top Dobbiamo top Sì, sì, sì Voglio aprire la top Per potermi muovere Sulla mappa liberamente Allora Nautilus è nel river Che fa? Panca Olaf Andano tutti drake adesso Arrivo Deido Però non c'ho la ult Ah dai abbiamo 100 0 Non ti preoccupare Panco io Ci sono Non è guardato Mi sa ancora botta Sarà un dive Esatto Mi sa la botta ragazzi E c'è la ultima Manca pure Olaf mid Vado io fast Vado io fast Vieni, vieni, vieni Arrivano mid Arrivano mid Arrivano mid Ok Non è vero Scusate, sono qua, sono qua Sono qua Io non pusherei Esatto Vieni, vieni WV su un out Easy Ok, ok Bene Vedo di rubare un po' di giungla qua Sì sì Se torna io c'ho la ult Questa non può proprio Sì, non può giocare Però attenti a Malgax All'herald Non vogliamo morire Rimaniamo tutti vivi Finché all'herald Così possono prendere al massimo No, no, no Mid, 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 mid Una ciuppata terno No, dov'è che c'ho questo C'era era al mid Qualcuno che guarda mid? Ah, vado io Vai, ci sono anch'io Fala fa la regolata Sta tornando, penso Non c'è la bot, ragazzi Io continuo a voler aprire la top Ma questo è ottimo Apriremo la top E poi sarò libero sulla mappa Nessun problema Sta andando comunque bene Prendi i boots prima, vero? No, se puoi finirti l'oggetto Ti finisce l'oggetto Altrimenti vai i boots, sì Dipendiamo, dipendiamo Ah, mia era al mid Scusa, Udi rinta Attenti Alla Ema Deve venire in mid? Deve venire in mid? No, no, no Tu vai bozza Non prendono niente Un plating Va benissimo Mi raccomando Rosè Giochi come wave clear bot Stai mid super safe E giochi come wave clear bot Perché tanto Se lui ti frizza la wave Non fanno niente sulla mappa Io finisco il game Se lui prova a pusharti a spam Comunque non si muore adesso Eh, non so se posso fare molto Ho fatto una cosa brutta qua Sì Ho fatto una cosa molto brutta Raga, focus Mi prendono forse la torre Eh, sì, la prendono Sono tutti la La prendo prima io Lasciategliela Lasciategliela Non morete Oddio Trollato Chilatelo Chilatelo Ok Ok Oh, puoi difendere Pulisci la wave Pulisci la wave Sì, è infendibile Al patola Eh, no, no, no Manca la botti Mela push, ragazzi Eh, arrivo a te Daido Sì, andiamo Prova ad arrivare C'è il portale qua Qualcuno l'ha preso, mi sa Vieni, vieni, vieni Però, ma cos'è sto champion Manca mis fortune Arriva anche da voi, eh Eh, too much Too much Ho trovato io Dai, ma su se Non usciamo a kill Ah, ok, meno male Eh, forse Orco Dio Dio, merda Ho trovato io My bad, ragazzi My bad, my bad Ha tankato troppo Raga, raga Concentralemi, davvero Sara Sono in ansia Quello dico Va bene Sara, non ci aiuta Dice Va bene, va bene Comunque No, no, sì, no Ha tankato una cifra Pensavo che Coltro damage Me lo sarei fatto Invece c'è un sustain Dalla madonna Sfain Devo avere più danno Non dovevo prendere Quel trade Ho gridato io qua Comunque il game Non è ancora Non è ancora Problematico Le kill ci da tutto il fuzz Vabbè, udile è grosso Ma ce l'aspettavamo Io posso continuare A giocare side E muovermi Questo drake lo contestiamo Dobbiamo uccidere Assolutamente Uno e due Io penso che Quello che deve morire Prima è il fuzz Perché non possiamo Fargli i cc Quindi tirate Tutti i danni Che avete sul fuzz Abbiamo willing redaction Abbiamo l'ignite E l'exhaust Ok L'exhaust lo mettete Io l'ho ulti Ottimo L'exhaust lo mettete Mi riusciamo a prenderla Io non ce l'ho Vai 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 Sara Piatala Piatala C'ha il flash? Non lo so Probabile Ok Ok Difendi mid Safe Rossè Io push Non c'erriva con la ulti Io push Non volevo sprecarla Volevo tenerla su Va bene Pusha la mid Al drago ci arrivo io Frappe non servirà niente Perché tanto c'è la sua Pigna Pigna Inizia a pignare Gli exhaust Non vanno su Olaf Va bene Vanno su Udyr Sono tutti top Sono tutti top Ok buono 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 Vai Qua siamo mille pigne E via Visione qua Il drake è nostro Lo lasciano Olaf mid Defendi safe Stai qua safe Attenta perché potrebbero essere qua Olaf io lo posso ultare in realtà Miss Fortune Miss Fortune No bugia Ok Possiamo andarci Ci siamo Ci siamo Stanno per fightare Arriviamo Arriviamo Lasciamo stare Giochiamo tutti downside con le pigne Eh ma Poccatele Poccatele TP qui di karma Vado Aiuto Aiuto Ok non quello che volevo fare ma Va bene Non ci trano dritto Che brutto fight Eh Olaf è troppo grosso È troppo fiddato Sì Penta Kill bene Va bene Orcudio Just Olaf Orcudio Paz Eh io sono giga indietro comunque Con sto champion Non Risco a fare veramente poco Eh ma perché c'è andato male all'early Che mi hanno preso un sacco di cose in early Già Allora Giguiamo side Possiamo give up Anche questo drake L'importante è che non prendono il nusher Come Allora I fight Raga devono partire Cioè Non dobbiamo startare il day clan Dobbiamo lasciare Q Che pigna E rimanere lì Fermi in stallo Cioè Se poi Nautilus Fa la cagata E ingaggia Eh Killiamo Nautilus E cerchiamo di disingaggiare Purtroppo Olaf è troppo good Contro la nostra comp Perché ignora tutti i cc Io ho bot Saratumid Dobbiamo Dobbiamo Cagato Dobbiamo Dobbiamo Giocare con le pigne E aspettare che io riesca a fare qualcosa A trovare qualcosa Cioè è salvabile? Sì Ok C'è qualcuno in giangola? Non so chi Non prendete nessun fight Senza di me Nessuno Nautilus Non lo prendiamo Nautilus sì No no Nautilus è troppo end Nautilus sì Dato troppo Sì 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 Questo sì Va bene che le prenda Q Io pusho bot Difendete qua Andiamo C'ho Olaf mid però C'ho Olaf mid però Esatto Vai tu Hai visto qua Olaf non già più mid Stavendo verso la bot La top Eh ci sta Tutti qua Non penso sia difendibile Secondo me sì Io posso tippare Se entano Qua? Sono nemmeno Se tipo fightiamo Abbiamo le ulti Tipo 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 Go dir Go dir Go dir Ottimo Alla folla Ce la facciamo Ce la facciamo Go karma Go karma Ok Ok slow 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 Ho perso la ulti Go 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 Incage 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 Ci arriviamo Per proseguire Vai arrivo su karma Ok Possiamo Possiamo ancora cesare Ok Via 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 Basta 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 Via 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 Possiamo tutti beccare It's fine Ci abbiamo provato Ottimo Ottimo Io top Rossella becca Va bot Io vado mid Sì Ottimo Questo Questa era molto buono Io do prendere Però l'item Mi tipo bot C'è mid A baron in 40 Ora è importante fare un fight E non morire Io tra 55 secondi ho la ulti Basta che Q sia qua a pignare a spam Ok Quindi noi stiamo in mid Prendiamo defensive vision Vi ricordate la cosa degli angoli Che vi dissi l'altra volta Giochiamo vision Giochiamo vision difensiva E se Nanni fa di nuovo quella cagata Lo ammazziamo e becchiamo In 4 non possono startarlo Ok Se prendo lo stop Ci può servire qua Sì È grosso Allora No Questo All of mid con Nautilus Sì Prova ad arrivare Potrei aver trollato Oh cazzo 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 Ma è bene Via 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 Pigniamo e cerchiamo di contestarglielo Altrimenti pushate mid fast Non penso sia contestabile Pusha mid allora Pushate mid Mettete vision Ho trovato io qua Cioè posso andare a provare A rubarlo Prova lo steal Tanto il drago lo perdiamo Se riesci prova Ma non credo Non abbiamo vision Oh provi 4k 4k Puoi avvicinarti Vacci blind Vacci blind Close Via 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 Disingaggiate Disingaggiate Correte tutti e due Muore solo Fieric qui Va bene Muore anch'io però No non credo Slow wall Tiregli qualcosa Eh vabbè C'ha quel coso lì Delle immunità Aiuto aiuto Mamma mia Che champion Odile Orco dio Questa la lasciamo Questa la lasciamo Lo sai Difendiamo questa Dio porco Come facciamo In realtà con Seraphine E' buono il nostro late Il late si Quel drago è un po' fastidioso Ma dobbiamo splittare Più che altro Quindi Il drake Va lasciato Va lasciato Non vinciamo Non so se possiamo Contestare Ah gli lasciamo L'anima Sì 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 Vado Vado a botto io L'anima non significa Win ragazzi Quindi Se giochiamo di macro E giochiamo bene di side Dove non possono fermarmi Attenzione Udi da solo Via 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 No 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 Non prendete nulla Non prendete nulla Io prendo la torre top La cosa Posso provare lo stial Al massimo La cosa che a loro manca Ragazzi E' che La loro karma Non sa giocare side E loro non sa giocare side Quindi Posso lanciarsi un fear Pushate le way fast Il più safe possibile Andate Lasciate il drake Loro non sanno giocare side Dovete solo tenerli là Edo lo provo lo stial Sì Puoi provarlo No vabbè Sì grazie Troppo tempo per pensarci Va bene Lasciamolo Verranno da me Io provo a prendere sta torre Anche se muoio Non è un problema Ok Sono a posto Sono a posto Vai Non vengono a prenderti No 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 Stanno tippando qua Ma io sono salvo Quindi non stanno Nemmeno usando il nascio Ragazzi Lo stanno spregando Ora io gioco bot Ok Beccate Difendete Sì Difendete qua safe E difendete questa Che Oddio Arriviamo No no Lasciate Difendiamo qua safe Q pigna Qui io giocherò bot Ok Tipo bot aggressivo Loro devono beccare Se beccano Non prendono nulla E perdono il nascio Se non beccano Tradiamo la torre Non dovrei perdere Dal fuzz Quindi è buono Questo Se viene fuzz A matcharmi Ok Stam beccando Secondo me Potete Gli freddere Bene Hanno appena Tipato qua Hanno appena Tipato qua Kasumi è un chiaro Bait Io sto safe Sì Forse è meglio Se becchi Deido No hanno loro Il nascio Loro perdono tempo Ola fai bot Vedete sono tutti qua Pusciate 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 Farsi Sì 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 Arrivo anch'io E paura che mi vanno a prendere No In torino Ma dopo uccidere Non posso Nire Tutti 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 Arrivò Vai Ok Mi hanno arrivato dritto Erano 5 bot Prendiamo MED Andiamo a muoverci Tipo Sì 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 Oh cazzo Si sbaglia a tutto Non ti preoccupare Mi aveva arrivata questa Però va a difesa quest'altra Difendete questa Va bene Top pure va giù Non vi posso arrivare Non vi posso arrivare Non vi posso arrivare Pulita la wave Pulisci la wave Non avete paura Sto pulendo Sto pulendo Che faccio? Cos'è che non lo so fare? Non si pulisce Give up Non ce la facciamo Arrivo possiamo fightare Sono 4 contro 4 però Se intano Ok Ok Olaf Olaf Riuscite? Non c'è da un ragazzo Dovresti riuscire a killarlo? Sì No Uno dei due ragazzi Sì 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 Ok Ok Buon rispetto È andato via C'è successo C'è successo Ma prende il portale Deftop Deftop Vado Non ha preso il portale Non gliel'ho visto prendere Avevo Whatever Sì 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 Va bene Tra un minuto c'è un altro Baron Il Baron Il problema E anche l'Elder L'Elder Dobbiamo contestarlo Dobbiamo fightare Il problema è che Non abbiamo i danni Per ammazzare Olaf O comunque Per ora non ne abbiamo Ok Dobbiamo Formare un po' di giungla Ci serve Si ci serve Controllo Da parte di Q Qua Io prendo l'item E ho Il mio caso il TP Posso Tipa Io stando Radiant Io arrivo Dobbiamo fare una pick Con me Sto arrivando Prendo i Cosi Io c'ho Il Radiant Back Faccio in tempo Non credo Sì È troppo importante Ci sono i portali Ciao L'up mid Ho preso lo scatto Ciao Io l'ulti ora Sono tutti là Io push mid Pingateli e basta Metteteli così Non sembra fightabile Io push mid Ok Tirate solo i cosi Installateli Non è fightabile Sono tutti gruppati Lo perdiamo sempre Dobbiamo trovarli split Nel caso in cui dovessimo Lasciare l'elder Lo lasciamo as well L'elder? Eh sì Non vedo come fightarlo Questo Ok stanno splittando Si stanno splittando Ho la fai dietro di me Potete cercare un fight Potete cercare un fight No cazzo L'ho quasi preso Che sfiga Olaf morto Olaf morto Olaf mordo Stallate Via 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 Se riesci a fermarli Posso prendere l'inibitor qua No morite mi sa Ok vabbè Io prendo l'inibitor comunque Cerco di prendere più tempo possibile Tanto sono morato Madonna che danni fuori di testa E fa sto coso Che cazzo di cempo Me lo canteriamo il Udi Scusa Ehm Ma doppia maschera Cioè Niente Con gli oggetti che abbiamo E con i danni puri dei Dara Sì Vai è intato col portato Ok no Qua Udir Mi cesa mi sa No No non credo È top Udir Ok Io c'ho un sacco di gold Andiamo al drago ragazzi Sì Dobbiamo andare al drake adesso Hanno appena preso i portali Devo andarmene Devo tippare bot Mi stanno cesando Questo drake è da fightare Karma non c'è Quindi Pigna Io arrivo e tippo eh C'ho la GA È grossissima la GA Ok C'ho la contro qua Se perdiamo questo fight Abbiamo perso il game vero Non è detto Non pensare a quello Tipo mid Dove ci mettiamo? Me ne vado Me ne vado Me ne vado Ciao Olaf Anche qua Allora R R io Chame Fai la mano? Penso proprio di sì Sono fine Aiuto 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 Ragazzi Anche loro non ci posso far nulla Kill 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 Ok Play with me Play with me Play with me Mi è esploso Aiutami Aiutami Non lasciarmi Non lasciarmi Non lasciarmi Mori per me Mori per me Mori per me Mori per me Vai 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 You flash Porco dio La dead dance Non muore mai Maybe non è finita Maybe non è finita No non è finita Oddio la wave è qua Pieno l'era La stiamo cagando Sì ok Che cos'è successo qua? Perché viene ingaggiato qui? Mentre io e Fieric Com'è successo? Eh non è ingaggiato qua Ma perché era Olaf Non possiamo scoparlo Penso che Olaf l'abbia vista Ebbe Abbia tirato dritto E basta Sì Ok Vabbè 15-1 Dobbiamo Dobbiamo provare a difendere La La mid lane Io giocherò bot Io giocherò bot side Adesso Mi hanno messo anche l'anatema Quindi questo prende Meno danni da me Dobbiamo provare ad ammazzare coso Io adesso avrò l'ex drinker Quindi Olaf Cioè Udir mi darà meno problemi Penso che proverò ad ignorarlo proprio E cerchiamo di ammazzare Olaf Va bene? Ma su di me Olaf di solito eh Eh lo so Lo so Se andate Zonya By the way Lo counterate tanto Perché se lui non può colpire un champion Perde la ulti Va bene? Io non so usare Zonya però Sì Devi cliccarla Prendi lo stopwatch se poi La clic Eh eh Zonya è il panic button Sara Lo prendo subito Lo stopwatch allora Sì 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 Eh Sì Hanno l'elder eh Vogliamo evitare ogni fight Non posso prenderlo Fa niente Save sotto torre Se devono Se devono provare ad ammazzarvi Deve essere sotto torre Io arrivo qua pure Becco Dobbiamo solo resistere per l'elder Se dobbiamo lasciare Se dobbiamo lasciare l'inibitor Li lasciamo ok? L'inibitor non si contestano Se sembrano aggressivi Lasciamo Cazzo Ok via 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 Sotto torre sotto torre sotto torre sotto torre Lasciamo l'inibitor Difendiamo quest Possono prendere solo mid bot E poi andare top Se li rilasciamo Io vado a pushare mid dip Vado a prendere il blu No 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 Rimani rimani Devi show warty Devi show warty Stai andando verso di te? Sì No problem Ok Ora vado a pushare top Il più veloce possibile Ti lascio il blu se vuoi Oh lo prendo io? No prendilo Prendilo Cazzo Pushate bot il più fast possibile Ora Sono tutti i base Sono tutti i base L'obiettivo c'è Nashor un minuto e mezzo Giocheranno per quello Ok Io becco e gioco bot Ora Non lo contestiamo Ragazzi Sì no 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 Tartaruga Tartaruga qui Ok Mi raccomando Mettete Defensive vision E alberelli Se morite abbiamo perso Chiunque sia Quindi giocate molto safe Se devono ammazzarvi Deve essere Qua Su queste due torri Ok Mi sta battendo Mi sta battendo fortissimo il cuore Scusate sono davvero in ansia C'è il c'è il c'è il normale Lasciamo gliela torre Via 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 Lasciamo gliela torre Ok Ok basta Sei troppo avanti Inibitor pure Se vanno oltre Tipo eh Ok preparati Mi sa vanno oltre Vanno oltre Vanno oltre Vanno oltre Sto tipando Sto tipando Ah fuck Vabbè Eh vabbè Leggermente grossi Troppo fed il fazzone C'ha 17 kill Sì Eh raga 17 1 10 Vabbè Dai su piangi Sara Su Lo sai che stai a 70 Dai Dai su Puoi tirarlo fuori Forza e coraggio Forza e formaggio Su Per sdramatizzare così Niente contro il ceng Contro il fazzone si perde raga È la la course Ci sta